Il nome di Luigi XIV evoca subito un record. È il sovrano, uno dei sovrani, che ha regnato più a lungo nella storia europea. È rimasto sul trono per ben 72 anni, 5 di questi in minore età, sotto la regenza della madre Anna d'Austria, quadiuvata dal cardinale Mazzarino, 63 nella maggiore età e 54 da solo, governando come sovrano assoluto. Per quanto Luigi XIV non avesse conosciuto molto il padre, essendo Luigi XIII morto quando egli aveva appena 5 anni, il futuro Luigi XIV rimase sempre molto legato alla memoria del padre. Da qui nasce, in un certo senso, l'ossessione del futuro Luigi XIV per il mestiere di re. Una ossessione che trova la sua manifestazione nella stessura di un libro, intitolato Memorie e come sottotitolo Istruzioni sul mestiere di re. Luigi XIV, il giovane Luigi XIV, non ebbe quella educazione che forse ci si sarebbe aspettati, un'educazione classica, un'educazione precisa, un'educazione ordinata. Ma la sua natura, quale è descritta da tutte le testimonianze, da tutti i contemporanei, la sua natura di estrema curiosità e poi soprattutto di volontà, di forza di volontà, di caparbia, fece sì che la sua istruzione assumesse delle valenze fortemente positive, centrate tutte su quell'idea fondamentale che il mestiere di re fosse appunto un mestiere da imparare, da portare avanti, da condurre avanti con passione e con profonda competenza. C'è una pagina nelle sue istruzioni nella quale Luigi XIV scrive che occorre che un re consideri il suo dovere come fonte di delizie, che il suo mestiere sia quello di regnare e sappia che ciò vuol dire tenere nelle sue mani il timone dello Stato. Il mestiere di re è grande, nobile e delizioso. Alla fine del Cinquecento la Francia vive una grave crisi politica ed economica, provocata innanzitutto dai drammatici conflitti religiosi che da decenni stanno dilaniando il paese. Nel 1589 sale al trono Enrico IV di Borbone. Tra i suoi primi atti di governo vi è la promulgazione dell'editto di Nantes, una legge che regola la convivenza tra le diverse religioni nello Stato e ristabilisce finalmente la pace sociale. La ritrovata concordia nazionale consente al sovrano di concentrare i suoi sforzi sulla ripresa della Francia, che durante il suo regno assiste a un deciso miglioramento economico. Le casse dello Stato, sull'orlo del collasso, vengono rimesse in sesto. Il commercio gode di un grande sviluppo e vengono fondate le prime colonie nel Nord America. Alla sua morte Enrico IV lascia in eredità una monarchia notevolmente rafforzata, in cui l'autorità del re si è imposta a scapito del potere nobiliare. Questo orientamento viene portato avanti dal figlio Luigi XIII, che al principio del 600 avvia il processo di costruzione della Francia moderna. Insieme al suo primo ministro, il cardinale Richelieu, il sovrano realizza una serie di riforme che mirano a consolidare l'autorità regia e a dare vita a un primo tentativo di accentramento amministrativo. Ma il governo di Luigi XIII è soprattutto caratterizzato dall'audace politica estera, che culmina nella partecipazione alla guerra dei Trent'anni, il grande conflitto che mette di fronte le maggiori potenze europee. Il re francese morirà nel 1643, pochi anni prima della pace di Westfalia, che nel 1648 pone fine alle trentennali ostilità. Sarà il suo successore Luigi XIV a beneficiare dell'esito vittorioso di questa guerra, che affermerà la Francia tra le nazioni più influenti del continente. Un grande peso nella sua educazione lo ebbero due persone. Una è il Vescovo Bossuet, l'autore di una opera, il discorso sopra la storia universale, che era stato scritto proprio per l'educazione del delfino, cioè per l'educazione di Luigi XIV. È una grandissima opera che ricostruisce gli eventi dell'umanità ad usum delfini. Ecco il significato di quella battuta che troviamo abbastanza spesso, la storia ad usum delfini, cioè la storia scritta per l'educazione del del delfino, cioè la storia scritta in modo tale da mettere in luce una tesi e di mettere da parte gli avvenimenti che non rispondono a questa tesi. Il secondo personaggio che ebbe una grande influenza sulla educazione di Luigi XIV fu il cardinale Mazzarino, per il quale il giovane Luigi avrebbe avuto in seguito sentimenti ambivalenti, per un certo verso gli era grato, gli era affezionato. Grato soprattutto perché Mazzarino era riuscito all'epoca dei torbidi, della regenza, uso la bella espressione di La Rochefoucauld, a salvare il regno e forse anche a salvare la vita di Luigi XIV. Ma al tempo stesso aveva nei suoi confronti una sorta di astio e di gelosia perché era convinto, a torto o a ragione che fosse, ma all'epoca il gossip circolava largamente, era convinto che il cardinale, amante del lusso e soprattutto della volutà, fosse l'amante della madre da lui adorata. Il cardinale Mazzarino abitava al piano superiore rispetto alla stanza dove si trovava Luigi XIV e lo incrociava continuamente. Il contributo alla sua educazione all'inizio fu un contributo che non riguardava tanto come dire la cultura, la politica, ma riguardava lo stile, riguardava il gusto, apprese per esempio il gusto dell'eleganza, non è un caso che il secolo di Luigi XIV è il secolo dell'esplosione della moda, apprese molto in termini di gusto per la bella vita, di gusto per le feste, di gusto per gli edifici giganteschi, apprese molto in termini di modo di vivere. Ma non c'è soltanto questo perché poco prima della morte il cardinale Mazzarino comincia a preoccuparsi dell'educazione politica di Luigi XIV, di questo giovane che è ammirato dappertutto, ma che non è ancora, per quanto sia sovrano, il sovrano effettivo. Comincia quindi a fargli delle lezioni vere e proprie per spiegargli i segreti della politica e in questo quadro Mazzarino di origini italiane che cosa fa? Dice a Luigi XIV, Sire, stia attento, Sire, la cultura politica italiana, il machiavellismo per esempio, è molto più importante di quanto non sia la tradizione razionale e cartesiana della politica francese, è molto più importante per garantirsi la gestione del potere. Gli dà anche una serie di consigli, consigli pratici, consigli che vedremo Luigi XIV farà proprio suoi, ce n'è uno in particolare, gli dice, l'espressione è anche molto bella, a me piace ricordarla, gli dice, baesta, tenga presente che i nobili, la nobiltà va tenuta più bassa dei fili d'erba. Poi aggiunge, impari l'arte della dissimulazione, gli dice, sia attento ai cortigiani, aggiunge, si procuri i soldi per le sue imprese dai sudditi senza però ridurli alla fame, senza cavarne il sangue e soprattutto non sia crudele. Sono insegnamenti dei quali Luigi XIV farà tesoro. La scomparsa del Cardinal Mazzarino nel 1661 aveva lasciato la Francia in una situazione di grande prestigio all'estero e di una situazione che la rendeva sostanzialmente egemone, la rendeva un grande protagonista. Sul piano interno invece le cose erano abbastanza diverse, perché sul piano interno la Francia si trovava in una situazione molto difficile. Le spinte centrifughe della nobiltà e dell'aristocrazia erano sempre più forti. Forse vale la pena di ricordare una cosa a questo proposito e cioè che la storia delle monarchie europee e anche la storia del contrasto tra il sovrano e la nobiltà che viene risolta in modi diversi. Ecco, Luigi XIV la risolve subito con una operazione che lascia, per così dire, sconvolti e attoniti tutti i personaggi della corte. La mattina immediatamente successiva alla morte del Cardinal Mazzarino convoca il Consiglio, il Consiglio reale e in piedi, con i dignitari in piedi, dice poche parole. Signori, da questo momento io sono il re, è tempo, è giunto il momento che io governi da solo. Voi mi aiuterete con i vostri consigli quando vi chiederò consiglio. Immaginiamoci appunto la scena, immaginiamoci il silenzio attonito di tutti i pochi ministri dell'epoca nelle loro divise, alle sette di mattina perché la convocazione è avvenuta molto presto, e Luigi che prosegue, la scena del teatro è cambiata. Io non seguirò quello che ha fatto il modo di comportarsi del cardinale, del defunto cardinale. Voi conoscete le mie volontà, dovete eseguire le mie volontà. Queste parole significano quello che dicono, significano quello che dice l'espressione stessa. È giunto il momento in cui io governi da solo. In una prospettiva, diciamo, di interpretazione storiografica, queste parole significano la nascita dello Stato assoluto, significano la nascita del concetto di assolutismo in Francia, dell'assolutismo monarchico, quale è compendiato nella celebre frase l'etat se moi, lo Stato sono io. Sia chiaro, questa frase Luigi XIV non l'ha mai detta e non l'ha mai scritta. Voltaire lo ha dimostrato in maniera, diciamo, ineccepibile. Però rimane il fatto che questa frase esprime il concetto di fondo dell'assolutismo reggio dell'età di Luigi XIV. Questa frase è una frase che esprime, diciamo, l'idea che il potere e la sovranità, che è l'aspetto visibile poi del potere, debba essere unico. L'assolutismo si sviluppa lungo due direttrici completamente diverse. Da una parte c'è questo assolutismo che nasce con Luigi XIV. In Austria e nella Europa dell'Est, cioè nella parte, chiamiamola così, più politicamente debole, più politicamente arretrata del continente, l'assolutismo viene declinato in una maniera diversa. Diventa il dispotismo illuminato. Stiamo attenti. Sono due fenomeni che potrebbero sembrare due facce della stessa metallia. No, sono due concetti completamente diversi. Perché l'assolutismo di Luigi XIV è quello che nasce dall'idea che il potere derivi direttamente da una dimensione metapolitica, derivi direttamente da Dio e che il sovrano abbia la necessità di gestire questa eredità e di portare avanti i compiti collegati a questo diritto. Dall'altra parte, il dispotismo illuminato, l'assolutismo è di tutt'altra natura. L'assolutismo nasce dall'illuminismo, quindi dalla ragione. Si deve governare secondo ragione. Quindi non c'è nessun riferimento a una entità di carattere metapolitico. L'assolutismo monarchico, però, nel pensiero di Luigi XIV, e questo è un punto che mi piace sottolineare, non si identifica con la tirannide. È qualcosa di completamente diverso, anzi è l'antitesi della tirannide. È un punto che vale la pena di sottolineare, ricorrendo alle parole di Luigi XIV stesso, appunto sempre nei suoi appunti, nel suo testo sulle mestiere di re. Scrive Luigi XIV, ci sono governatori di province che s'attribuiscono diritti ingiusti, truppe che vivono della dissolutezza, gentiluomini che tiranneggiano i contadini, esattori di tasse e graduati di polizia che nelle loro circoscrizioni amministrano con insolenza criminale. Il popolo dovrebbe avere un solo re, mentre invece sopporta mille tiranni. Gli ordini del re sono sempre dolci ed equi perché fondati sulla giustizia, mentre quelli dei falsi sovrani, essendo ispirati dalle loro passioni disordinate, sono sempre ingiusti e violenti. È un passo significativo che serve a capire meglio qual è l'essenza della teoria dell'assolutismo monarchico, piaccia o non piaccia di Luigi XIV. E la strada dell'assolutismo, imboccata subito dal sovrano, viene percorsa senza esitazioni, con uno scopo. Lo scopo di subordinare al principio della unitarietà del potere tutte le molte sollecitazioni di tipo centrifugo che emergevano tradizionalmente dalla società francese e da certi settori della società francese, il clero per esempio, la nobiltà, i detentori di uffici acquistiti dalla Corona e via dicendo. Per conseguire questo obiettivo Luigi XIV interviene nei rapporti con la Chiesa per esempio, sostenendo la Chiesa gallicana, cercando di eliminare gli ugonotti dalla vita francese, la revoca dell'editto di Nantes per inciso che avverrà molto più avanti nel corso della seconda parte della vita di Luigi XIV, provocherà l'esodo di 60.000 ugonotti dalla Francia, perché sono considerati, per così dire, un corpo di dissidenti religiosi all'interno della Francia, della cattolicissima Francia. Ma il cammino di Luigi XIV per la costruzione dell'assolutismo va anche oltre ovviamente il conflitto, se vogliamo così chiamarlo, con la Chiesa. Va nella direzione dell'indebolimento della nobiltà per tenerla lontana dalla gestione degli affari politici, cercando di spingerla o alla carriera delle armi, oppure anziché inviarli alla carriera delle armi chiamarli a corte, in modo tale che a corte possano così adagiarsi fra gli agi e le bollezze di una vita che non è più una vita politica attiva. Nel corso del Cinquecento la riforma protestante provoca una frattura inconciliabile tra i cristiani di tutta Europa, che spesso sfocia in aspre guerre di religione. Nella Francia della seconda metà del secolo il conflitto è particolarmente violento e si intreccia anche con motivazioni politiche e sociali. I protestanti calvinisti francesi, detti Ugonotti, sono infatti esponenti di una parte della nobiltà e della borghesia cittadina, per la quale la riforma religiosa diventa anche un'occasione di rivalsa sociale e di lotta contro l'assolutismo regio. La reazione cattolica, orchestrata dalla regina Caterina de' Medici, si trasforma in una vera e propria persecuzione che porta alla morte di circa 70.000 Ugonotti e tocca l'apice nella famigerata Notte di San Bartolomeo del 1572. A ricomporre la frattura sarà il re Enrico IV che nel 1598 promulga l'editto di Nantes. Il provvedimento garantisce la libertà religiosa all'interno del regno e riconosce l'uguaglianza dei diritti civili. Ora la Francia è di nuovo un paese unito, ma il clima di tolleranza ha breve durata. Negli anni 20 del 600 Luigi X terzo avvia una nuova campagna contro i protestanti, considerati una minaccia al proprio potere. Agli Ugonotti vengono limitati i diritti politici e molti sono costretti alla fuga. Questo atteggiamento ostile si accentuerà durante il regno di Luigi X IV che arriverà a revocare la libertà di culto e a promuovere le conversioni forzate al cattolicesimo. Il re sole sarà anche un deciso sostenitore del gallicanesimo, una tendenza che sostiene la necessità di una chiesa nazionale francese, politicamente indipendente da Roma e sottomessa al sovrano. Un orientamento malvisto dal papato, ma specchio di quella volontà di accentramento e controllo della vita del paese su cui è costruita la monarchia di Luigi X IV. Appena assunto il potere nelle sue mani, Luigi X IV decise di rimettere ordine nella amministrazione e nella riorganizzazione dello Stato. Decise di promuovere una sorta di uniformità legislativa nel paese, di uniformità amministrativa, di uniformità fiscale e persino religiosa. La persona che fu più vicina al re in questa sua opera di trasformazione e di uniformizzazione dello Stato fu Jean-Baptiste Colbert, nominato controllore generale delle finanze, il quale proveniva da una famiglia di ricca, diciamo, borghesia di Rems e questo è un punto che mi piace sottolineare. Il re Luigi X IV si circondò come collaboratori prevalentemente di persone che non provenivano più dalla antica aristocrazia tradizionale, ma provenivano appunto da una borghesia ricca o anche da una nobiltà di recente nobilitazione. Ecco, è un punto, ripeto, che il duca di Saint-Simon, personaggio di antica ligaggia, personaggio espressione della vecchia monarchia, rimprovererà appunto a Luigi XIV come un elemento che finisce per mettere in crisi il modello tradizionale della monarchia francese prima appunto di lui, cioè il fatto di inserire elementi della borghesia nei posti chiave anziché elementi, diciamo, della vecchia e tradizionale aristocrazia. Il processo di accentramento e di controllo dell'amministrazione passò attraverso il rilancio e il potenziamento di una figura amministrativa, l'intendente, già Luigi XIII e sotto il consiglio di Richelieu aveva cominciato a sviluppare l'utilizzazione di questo personaggio, di questa figura e chi era l'intendente? L'intendente era in un certo senso la longa manus del potere centrale in periferia, era il personaggio che a livello locale, nelle città, nei contadi, nei borghi, nei feudi, doveva andare per controllare l'andamento della giustizia, per controllare che tutto fosse in ordine, per controllare il buon andamento dell'amministrazione, doveva fungere anche, diciamo così, da cinghia di trasmissione delle lagnanze della popolazione locale e soprattutto nei confronti del potere e soprattutto, dicevo, adottare delle misure straordinarie, per esempio bloccare la prassi della nobiltà di provincia di farsi delle proprie truppe, di arruolare dei soldati o di esigere delle tasse personali all'interno dei propri feudi. Riflettiamoci un attimo, ci si rende subito conto che questo uso dell'intendente, cioè sostanzialmente, detto gli altri tebbini, questa proiezione in periferia del potere centrale, è un colpo durissimo alla struttura dell'antico regime, è un colpo durissimo al potere, diciamo, dei feudatari locali. E funzionali a questo progetto di accentramento furono anche tutta una serie di iniziative legislative promosse o legate comunque al nome di Luigi XIV, l'emanazione per esempio del Codice Luigi, il Codlui, che rimetteva a ordine nel campo amministrativo al caos legislativo che c'era nel paese, con un paese, diciamo, nella parte settentrionale governato da leggi consuetudinarie, cioè da usi e costumi, nella parte meridionale governato da un diritto ormai obsoleto che era il diritto romano. Quindi il Codice Luigi è un qualche cosa poco ricordato per la verità, ma veramente importante che rappresenta la base sulla quale poi Napoleone Bonaparte lavorerà per costruire il suo Codice Bonaparte che è all'origine del diritto moderno. E accanto al Codice Luigi anche, diciamo, le altre iniziative che riguardano il campo commerciale, il codice commerciale, l'uniformazione della giustizia penale e via dicendo. Questo fenomeno mi fa venire in mente una osservazione di un grande studioso, Alexis de Tocqueville, il quale nella sua opera sull'antico regime e la rivoluzione scrive ad un certo punto che i tre quarti della rivoluzione francese sono stati fatti da Luigi XIV. È un'affermazione che potrebbe sembrare stupefacente, ma se ci si riflette bene stupefacente non è, perché che cosa voleva dire il grande teorico della democrazia in America, Alexis de Tocqueville? Voleva dire una cosa molto semplice, e cioè che questo progetto, queste iniziative di Luigi XIV per uniformare dal punto di vista legislativo il Paese, questo uso dell'intendenza finiva per mettere in crisi profondamente il regime feudale che era alla base del Paese nell'epoca. Jean-Baptiste Colbert non fu soltanto il controllore generale delle finanze o se si preferisce il ministro delle finanze e il ministro dell'economia di Luigi XIV, fu anche qualche cosa di più, fu il collaboratore più stretto, il collaboratore più fidato delle re, fu l'uomo chiave della economia francese sotto il regno di Luigi XIV. Attraverso la razionalizzazione delle imposte, vari tipi di imposte dalle tasse docanali, alle taglie e via dicendo, alle gabelle, Colbert riuscì a ridurre il debito pubblico, il disavanzo dello Stato e riuscì a promuovere soprattutto l'industria ed il commercio francesi, scoraggiando le importazioni e favorendo le esportazioni. Il suo sistema fu chiamato colbertismo, questa idea, questa concezione dell'economia che deve privilegiare le esportazioni a favore delle importazioni e deve privilegiare soprattutto l'esportazione di un prodotto che è prodotto dello Stato, ha assunto appunto il nome stesso del suo ideatore. All'epoca si credeva che la ricchezza di un paese fosse soprattutto legata alla quantità materiale, alla quantità fisica di moneta pregiata, quindi sostanzialmente di oro e di argento, che affluiva nelle casse dello Stato. Colbert parte dall'idea che i prodotti che vengono esportati debbano essere pagati in oro ed in argento, in modo da arricchire lo Stato. I dazzi doganali sono lo strumento con il quale Colbert favorisce le esportazioni, ma soprattutto blocca le importazioni. Al nome di Colbert è legata anche la nascita delle grandi manifatture, la manifattura gobelen degli arazzi, tanto per citare un esempio. Ma che cosa esprimono queste manifatture? La manifattura, diciamo, delle gobelene, le manifatture di Saint-Gobain, esprimono il gusto per il lusso, sono beni cari, sono beni costosi, esprimono il gusto per il bello e per il lusso. Ma questa è l'epoca del lusso, è l'epoca del bello, è l'epoca soprattutto del lusso fine a se stesso, ma al tempo stesso del lusso che finisce per acquistare dei simboli e dei significati che hanno o vogliono avere una valenza politica. Colbert sa sfruttare, dietro l'indicazione di Luigi XIV, sa sfruttare anche dal punto di vista, oggi diremmo, manageriale, questa tendenza dell'epoca. Ecco allora il suo impegno per incoraggiare l'immigrazione in Francia di tutta una serie di artigiani e di artisti che provengono dall'Europa, per esempio i vetrai di Murano, per esempio i carpentieri navali che vengono dall'Olanda o dalla Danimarca e via dicendo. Stiamo attenti, non è mecenatismo questo, non è affatto mecenatismo o perlomeno non è solo mecenatismo, è piuttosto una operazione economica, una operazione volta a ridurre il costo della dipendenza della Francia dall'estero in un certo tipo di settori, soprattutto nei generi diciamo così voluttuari di lusso e al tempo stesso è ancora un'operazione di politica economica volta a favorire la produzione di questi generi all'interno come prerogativa esclusiva dello Stato e favorire dell'esportazione. Quindi sviluppo del commercio delle grandi compagnie commerciali, la compagnia commerciale per esempio francese delle Indie orientali che fanno il parallelo con le grandi compagnie commerciali che c'erano e che erano operanti appunto in Olanda, in Gran Bretagna e via dicendo. Ma c'è una differenza di fondo tra il modello francese e il modello non francese, il modello inglese o dolandese, tanto per essere precisi e la differenza di fondo sta che le compagnie mercantili francesi sono tutte compagnie delle quali lo Stato è il primo azionista, mentre le grandi compagnie commerciali olandesi, inglesi e via dicendo, sono compagnie affidate soprattutto, anche se hanno poteri delle volte parastatali nei territori dove operano, sono affidate soprattutto a borghesi e commercianti. Per favorire lo sviluppo di industrie moderne, il primo ministro Colbert istituisce le cosiddette manifatture reali. Si tratta per lo più di imprese private che ottengono il fondamentale sostegno dello Stato attraverso sgravi fiscali, sovvenzioni e anche commesse regge. Il principale settore in cui queste aziende si specializzano è quello dei beni di lusso, che conosce in questo periodo una fase di straordinario sviluppo. A determinarne l'impulso decisivo è la costruzione della sfarzosa reggia di Versailles, il cui arredamento viene affidato proprio agli artigiani delle manifatture reali. Nascono in questo periodo le maggiori eccellenze dell'industria francese, dai merletti e la seta nella città di Lione, ai velluti di Parigi, agli specchi di Saint-Gobain, che presto soppianteranno l'arte dei maestri veneziani. In particolare diventano celebri anche all'estero le produzioni di arazzi delle famose manifatture di Goblen a Parigi e di Beauvais, che ben testimoniano la duplice natura pubblica o privata delle manifatture regge. La manifattura di Goblen viene gestita direttamente dalla corona sotto la direzione del grande pittore Charles Lebrun, autore degli affreschi della Galleria degli Specchi di Versailles. Al contrario, quella di Beauvais, situata nell'omonima cittadina, è un'impresa privata che realizza le sue splendide tappezzerie grazie ai favori e alla committenza del sovrano. Nel corso del Settecento la pregiata qualità delle manifatture francesi si afferma come il modello di riferimento di un nuovo gusto per il lusso, che diventerà sempre più popolare e dalla corte di Luigi XIV si diffonderà tra i nobili e i possidenti di tutta Europa. Il rafforzamento del potere centrale del re, che diventa sempre più un potere assoluto, cioè legibus solutus, sciolto dalle leggi esistenti, ma esso stesso promotore di leggi, autore, creatore di leggi, avviene dunque grazie all'opera di depotenziamento della nobiltà e dell'aristocrazia. Luigi XIV riesce a depotenziare le sollecitazioni centrifughe della nobiltà e ad eliminare il suo peso politico grazie ad una intuizione geniale. Allontanare gli aristocratici dalle loro terre, che sono per essi fonte di ricchezza, ma anche fonte di potere, perché nei loro feudi gli aristocratici sono dei piccoli sovrani, hanno il diritto di farsi degli eserciti privati, hanno il diritto di imporre delle tasse private e via dicendo. È un'operazione, ripeto, geniale. I nobili sono costretti a passare gran parte dell'anno a corte, a partecipare alle feste che diventano sempre più sfarzose e quindi a spendere gran parte del loro patrimonio e a indebitarsi per poter mantenere il livello e lo stile di vita imposto dal sovrano. È un'operazione politica, è un'operazione di grande riflesso politico che costringe appunto i nobili a vivere non soltanto all'ombra del re, ma a diventare economicamente dipendenti dal re stesso. I nobili trasportati a corte vivono una vita che sotto un certo profilo è addirittura paradossale, sono indeboliti dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. Non sono più in grado di organizzare quelle trame, quei disegni eversivi e quei collegamenti che nel passato potevano influire sul sovrano stesso. Lo strumento attraverso il quale viene realizzata questa operazione è la costruzione della reggia di Versailles, uno dei monumenti più belli e più grandi che esistono al mondo, una reggia che diventerà il modello per tante regge grandi o piccole che siano in tutti i paesi e in tutte le monarchie e le dinastie europee. È una reggia imponente e Luigi XIV vi ha chiamato a lavorarci i più grandi artisti dell'epoca, da l'architetto di Giardini, Les Dôtres, a Les Vaux e via dicendo. Per inciso, questo mi fa venire in mente anche un altro aspetto della figura e della personalità di Luigi XIV, il suo mecenatismo che è anche un'operazione di tipo politico, ma che effettivamente ha le caratteristiche del mecenatismo classico, il suo richiamare a corte quando la reggia di Versailles sarà, per così dire, costruita, i più grandi ingegni del tempo. In tutti i campi non ci dimentichiamo che l'epoca di Luigi XIV nel campo della letteratura è l'epoca di Corneille, l'epoca di Molière, l'epoca di Racine, l'epoca di Bossuet, l'epoca di Fenelon e via dicendo. Non dimentichiamo che fra gli artisti che vengono a lavorare a Versailles e che Luigi XIV chiama, c'è per esempio anche il nostro Bernini che realizzerà un bellissimo busto che per la verità a Luigi XIV piace poco e ci sono i più grandi artisti dell'epoca in tutti i campi, quindi il mecenatismo come carattere di questa epoca di Luigi XIV. Ma Versailles, che è per così dire il culmine di questo mecenatismo e di questa operazione politica, Versailles diventa il simbolo del potere reale, diventa il simbolo del potere reale perché vi sono concentrati i ministeri, vi sono concentrati i principali collaboratori politici del re e di governo, vi alloggiano gli aristocratici che vivono fra pettegolezzi, divertimenti, feste e che sono messi in competizione fra di loro, competizione anche per così dire negli aspetti più banali e più risibili. Faccio un esempio che può essere anche divertente, la gara per assicurarsi il privilegio di poter accompagnare il sovrano al letto con la candela accesa lungo le scale che portano alla sua stanza. Oppure ancora quello di sedere alla tavola del re, che è un grandissimo privilegio, anche perché la tavola del re non è il pranzo quale noi lo concepiamo, è un rito che dura ore, è un rito che tende ad esaltare, diciamo il mito della cucina francese, che tende ad esaltare appunto la varietà, la possibilità di tutte le possibili vivande. Tutta la vita di Versailles ruota intorno alla figura del re sole ed è interamente scandita dai suoi ritmi e dal suo volere. Luigi XIV viene svegliato di solito alle otto del mattino dal cameriere che dorme ai piedi del letto regale e per prima cosa indossa una parrucca senza la quale non si mostra mai in pubblico, nemmeno nella sua camera. Dopo il re viene vestito e fa colazione e nel frattempo entrano a fargli visita a gruppi i nobili e i ministri che sono stati accolti. Essere inclusi nei primi due gruppi è considerata una grandissima onorificenza. Questi possono infatti incontrare il sovrano ancora a letto. Tutti gli altri cortigiani attendono la visita del re nella grande galleria di Versailles dove Luigi si reca dopo il rituale della vestizione. Il resto della giornata trascorre tra incontri, spedizioni di caccia nell'amplissimo bosco e passeggiate nei giardini durante le quali il re sole è attorniato da cortigiani desiderosi di ricevere un suo semplice cenno se non un suo saluto. La sera è infine dedicata al divertimento e alle feste, ospitate nelle lussuose sale della reggia. Tanta magnificenza non riesce però a mascherare le difficoltà del regno. Da un lato le competizioni tra i nobili per assicurarsi il favore del sovrano non cessano mai, creando un clima di invidia e di tensione. Dall'altro la ricchezza della corte contrasta con le condizioni di vita della maggior parte della popolazione francese, che vive immersa nella precarietà economica o addirittura in miseria. Col tempo questa contraddizione diventerà sempre più marcata e alla fine del secolo sfocerà nella rivoluzione francese e nel crollo dell'Ancien Régime, di cui Luigi XIV è il simbolo indiscusso. Versailles, al di là della grandezza, al di là della bellezza, il palazzo incantato, come è stato definito, è una grande operazione politica. È una grande operazione politica che tende, ripeto ancora una volta, a limitare il potere della nobiltà e dell'aristocrazia. Ma è anche una grande operazione politica in termini più moderni, più vicini a noi. È una operazione che tende ad acquisire il consenso. È un'operazione che serve a formare, guidare, controllare il consenso della popolazione. E perché? Non solo perché Versailles diventa simbolo del potere, diventa qualche cosa che anche nell'immaginario viene proiettata al di fuori. Ma perché deve servire ad avvicinare, e questo è il paradosso poco spesso sottolineato, ad avvicinare alla monarchia, che ormai è una monarchia di diritto divino. Se si circola nelle stanze della reggia di Versailles, si vedranno tutte queste allegorie mitologiche che assimilano il sovrano alle antiche divinità, si tratta di avvicinare a questa monarchia la popolazione comune. E come? In maniera molto semplice. Alla reggia di Versailles possono accedere tutti i cittadini francesi. Si supera la prima fascia di mura, si arriva alla seconda dove ci saranno delle guardie che controllano che non si portino armi e soprattutto che a un certo punto si sia vestiti in maniera decente, per cui gli si affitta il cappello, gli si affitta la toga e via dicendo. E poi i cittadini possono a un certo punto entrare e deliziarsi di quello che è appunto il simbolo del potere. Quindi è un'operazione non soltanto politica per controllare diciamo le redini del governo, ma è un'operazione che serve a popolarizzare, oggi si direbbe con una espressione tecnica della stereografia contemporanea, a nazionalizzare la monarchia, all'istituto monarchico. Versailles alla fine il consenso lo costruisce, lo costruisce effettivamente anche sotto un altro aspetto, perché se ci riflettiamo bene e andiamo a vedere dei numeri, ci rendiamo conto che a Versailles abitano circa 3 mila persone, una piccola città, una piccola realtà, non solo 3 mila persone abitano, ma a Versailles circolano soldi, ci sono 15 mila persone che lavorano a Versailles, quindi Versailles è uno strumento che spende soldi, ma al tempo stesso fa circolare soldi e quindi la grande operazione politica del sovrano. Il regno di Luigi XIV rappresenta per Parigi una fase di straordinario sviluppo e di profonda trasformazione. Sul piano urbanistico viene abbattuta l'antica cinta muraria, per dare respiro alla città e per aprire nuove direttrici di crescita ed espansione. Inoltre viene migliorato il sistema delle infrastrutture, grazie alla nuova illuminazione notturna e alla modernizzazione della rete idrica. Ma è soprattutto il volto monumentale della capitale francese a essere curato. Lungo il percorso delle mura ormai scomparse vengono progettate le ampie passeggiate alberate dei Grand Boulevard. Sono poi costruiti gli archi trionfali di Port Saint-Denis e Port Saint-Martin e si provvede alla sistemazione dei giardini delle Tuileries, che diventeranno un simbolo della città. In questo periodo sono inoltre realizzate due importanti piazze, Place de Victoire, creata al fine di accogliervi una statua del Re Sole, distrutta durante la rivoluzione, e Place Louis Le Grand, oggi Place Vendôme, che riproduce il tipico aspetto della piazza reale. In ambito assistenziale vengono edificati due grandi complessi, anch'essi nati con intenti monumentali. Il primo, nato per ospitare i soldati invalidi, è l'Hôtel des Invalides, un sistema di edifici maestoso, divenuto ben presto un capolavoro dell'architettura francese del XVII secolo. Il secondo è l'ospizio della Salpetrière, concepito come luogo di accoglienza per mendicanti e poveri. Il trasferimento della corte a Versailles non è dunque la manifestazione del disinteresse di Luigi XIV per Parigi. Anzi, proprio sotto il Re Sole, Parigi viene trasformata in una grande città, in grado di competere con le altre sontuose capitali europee, un emblema della nuova Francia che il sovrano aspira a veder primeggiare nel mondo. Al di là dell'apologia e al di là della denigrazione, che cosa si può dire di Luigi XIV, questo grande sovrano del XVIII secolo? Grande perché effettivamente fu grande, nel bene e nel male, piaccia o non piaccia. Luigi XIV, il sovrano che inventò l'assolutismo, fu anche il sovrano moderno che in un certo senso seppe utilizzare quelle che oggi vengono chiamate le tecniche di creazione, controllo, mobilitazione del consenso. Fu il sovrano che cercò per un verso di mantenere il distacco del sovrano tradizionale nei confronti dei sudditi, cercò anche di stabilire un contatto diretto con i propri sudditi. Fu il sovrano che concepiva l'assolutismo come una alternativa alla tirannide. Può piacere o non piacere, ripeto, ma Luigi XIV fu tutto questo, un insieme di contraddizioni e soprattutto un insieme di passatismo e di modernità. Fu in un certo senso l'ultimo sovrano del Medioevo perché la sua concezione della monarchia era una concezione sostanzialmente di diritto divino che faceva riferimento ad una realtà metapolitica, ma al tempo stesso fu anche il primo sovrano che apre la porta alla modernità attraverso l'idea dell'accentramento delle potere che verrà poi ripresa da Napoleone Bonaparte ed entrerà a far parte del patrimonio della cultura politico-amministrativa dell'età contemporanea nei grandi stati di Europa. E lo è moderno, Luigi XIV, anche nel rapporto che viene a crearsi fra la monarchia, più in generale fra lo Stato e i cittadini, i cittadini comuni che pur nel rispetto dell'adorazione del sovrano sono ammessi alla sua corte, sono ammessi alla sua presenza.